Oggi parliamo del predicato in analisi logica e, in particolare, impariamo a distinguere il predicato verbale dal predicato nominale. L'argomento lo potete trovare trattato alle pagine 511-514. Che cos'è il predicato? Il predicato è il verbo all'interno della frase che indica l'azione fatta dal soggetto oppure subita dal soggetto o un suo modo di essere. Guardiamo alcune frasi d'esempio per capire come distinguere il predicato verbale dal predicato nominale. Nella frase il cane abbaia, abbaia, è un predicato verbale. Il predicato verbale è qualsiasi verbo dotato di un proprio senso autonomo che, appunto, indica l'azione fatta o subita dal soggetto. Per facilitarvi nel riconoscimento, il predicato verbale è costituito da un qualsiasi verbo di quelli che avete studiato appartenente alle coniugazioni che terminano in are, ere, ire. Siano verbi riflessivi oppure verbi impersonali. Diverso, invece, è il predicato nominale. Guardiamo le frasi così capiamo la differenza. Il predicato che è contenuto nella frase Luca è simpatico è un predicato nominale ed è possibile riconoscere che, infatti, ha una forma diversa dal predicato verbale. È formato da il verbo essere, in questo caso al presente, più un aggettivo. Il verbo essere più aggettivo lo chiamo, appunto, predicato nominale. Ma anche in questa frase c'è un predicato nominale. È formato, però, da il verbo essere, sempre al presente, ma potrebbe essere a qualsiasi altro tempo, più un sostantivo. Luca è un medico è una frase che contiene un predicato nominale. Osserviamo, invece, l'ultima frase che dice Luca è simpatico, disponibile e gentile. Osserviamo che, in questo caso, il predicato nominale è formato dal verbo essere più ben tre aggettivi. Non è detto, infatti, che l'aggettivo o il nome che accompagna il verbo essere sia uno solo. Per scendere più nel dettaglio, nell'analisi del predicato nominale, ricordate che nella frase Corrado è un insegnante è la copula, cioè l'elemento che unisce, che si congiunge al termine insegnante, che è il sostantivo, che funge dal nome del predicato. Nella frase Giovanni è un bravo ragazzo, abbiamo sempre il verbo essere usato come copula, seguito, in questo caso, da bravo, che è un aggettivo, e ragazzo, che è un sostantivo. In questo caso abbiamo un predicato nominale formato dalla copula, dalla parte nominale, che è ragazzo, più bravo, che è l'aggettivo che si riferisce alla parte nominale, e quindi fugge da attributo. Nell'ultima frase, il pranzo è pronto, abbiamo la copula con l'aggiunta di un aggettivo. Quindi, il predicato nominale è sempre formato da due elementi. Il verbo essere, che chiamo copula, però a qualsiasi tempo verbale, qui ci sono solo esempi al presente, ma avreste potuto trovare anche era, è stato, seguito, o da un sostantivo, o da un sostantivo con un attributo, oppure da un aggettivo, come nell'ultima frase. Il pranzo è pronto. Attenzione però a non incorrere nell'errore quando incontrate a questo punto, all'interno di un verbo, il verbo essere, il predicato, il verbo essere. Perché? Ricordate che il verbo essere viene utilizzato anche come ausiliare all'interno dei tempi composti. Per cui, osserviamo con attenzione queste frasi. È stato bravissimo in gara, è stato, è l'indicativo passato prossimo del verbo essere, seguito da un aggettivo. In questo caso, quindi, mi trovo di fronte a un predicato nominale. È stato e copula, bravissimo è invece la parte nominale. Nella seconda frase, invece, è stato invitato alla festa, o è stato, ma che è usato come ausiliare, non come copula. Infatti, è stato, è seguito da invitato, che è il participio passato del verbo invitare. È stato invitato, è infatti una forma passiva, è il passato prossimo passivo del verbo invitare. Per cui, osservate sempre quello che c'è dopo il verbo essere. Se si tratta di un aggettivo, come abbiamo visto nelle frasi sopra, di un sostantivo, oppure di un aggettivo più sostantivo, si tratta di un predicato nominale. Ma se dopo c'è un participio passato, mi trovo di fronte ad un predicato verbale. Ancora più particolare è invece la terza frase. È stato al mare con Luisa. In questo caso ho il verbo essere, da solo, dopo non c'è un participio passato, ma un'espressione di luogo al mare, e mi trovo ancora di fronte a un predicato verbale. Perché? Dovete ricordare questa regola. Quando il verbo essere nella frase è usato col significato di trovarsi, stare, esistere o appartenere, ha valore di predicato verbale. Infatti in questa frase, stato al mare, si è trovato, è stato al mare, nel senso di stare, non di verbo essere. Guardiamo ancora qualche esempio. Se io dico Luca è al bar, in questo caso il verbo essere è usato come predicato verbale, non come copula di un predicato nominale. Da cosa lo capisco? Beh, innanzitutto dal fatto che dopo il verbo essere non ho un aggettivo o un sostantivo legati direttamente al verbo essere. Infatti qui è una preposizione articolata. Ma lo capisco anche dal fatto che qui il verbo essere ha il significato di trovarsi. È come se la frase fosse Luca si trova al bar. Luca è al numero civico 32? Significa che abita al civico 32. Nella frase invece la penna è di Luca è al significato di appartiene. Per cui in questo caso il verbo essere ha valore di predicato verbale. Per ricapitolare quello che abbiamo visto. Il predicato verbale può essere... Il predicato, scusate, può essere verbale nominale. Il predicato verbale esprime un'azione compiuta o subita dal soggetto, un evento che accade al soggetto, oppure uno stato, una condizione del soggetto, come nelle frasi, il ragazzo gioca, voce del verbo giocare, il sole sorge, voce del verbo sorgere, il ragazzo riposa, riposare. Il predicato, invece, è nominale quando è costituito dal verbo essere più un aggettivo, da un nome, da espressioni sostantivate o aggettivate, e indica del soggetto una condizione o una qualità. Per esempio, Marco è uno studente, copula più parte nominale, costituita da un sostantivo. Marco è simpatico, copula più aggettivo. Marco è un ragazzo intelligente, copula più sostantivo, più attributo della parte nominale. Qui sotto trovate degli esercizi da svolgere sul vostro libro in preparazione alle attività che poi faremo in classe.